allora cari amici salve abbiamo una bellissima signora che si chiama Gabriella Marangelli io ho avuto il piacere di ospitarla per dei seminari quest'anno nella mia accademia e non poteva mancare nelle varie interviste che andiamo facendo anche perché è stata una delle eh docenti e delle astrologhe psicologhe più apprezzate ci tengo a dirlo perché insomma eh a dare a Cesare quel che è di Cesare mi sembra eh assolutamente giusto eh allora diciamo subito che Gabriella si è lavorata in filosofia con indirizzo psicologico eh ha frequentato il Cida ehm fondamentalmente eh diciamo che si è appassionata alla prevenzione alla cura del disagio psichico delle disabilità mentali delle varie problematiche eh che rientrano insomma sotto eh diciamo l'aspetto psicologico psichico della persona e eh fa l'astrologa ma soprattutto lei ci tiene molto che si dica che lei ha unito l'astrologia e la psicologia in una sorta di sapere utile per aiutare le persone diciamo in difficoltà comunque che hanno bisogno di un aiuto Gabriella benvenuta ce lo racconti tu a parole tue io ho cercato di essere chiara per tutti. Tanto grazie dell'invito amata ehm allora diciamo così io appunto come hai detto tu eh ho iniziato i miei studi da ragazza o gli studi universitari frequentando appunto un corso di filosofia e mi sono laureata in filosofia con indirizzo psicologico perché comunque la psicologia era già un mio interesse già all'epoca e quindi l'astrologia in realtà l'ho incontrata successivamente e per me la cosa direi stupefacente è intanto che ehm sono riuscita diciamo così a integrare appunto queste due eh due più perché ci metto di mezzo anche la filosofia quindi queste diverse discipline e comprendendo che non dicevano cose diverse ma che c'era un filo conduttore. Allora innanzitutto ehm discipline studi diciamo che sicuramente aiutano una diversa comprensione del senso delle cose della vita che è quello che mi ha sempre eh diciamo appassionato interessato è sempre stata un po' la mia ricerca e l'altra cosa particolarmente interessante per me è stato che appunto nonostante provenissi già da un certo percorso e nel frattempo avevo cominciato a lavorare quindi sempre nel settore sociale come sai e quindi per il tipo di lavoro che facevo ero tenuta e con piacere peraltro a fare continue supervisioni a fare un lavoro psicologico su di me nonostante questo background eh l'astrologia mi ha dato delle comprensioni proprio di me stessa eh ma non solo di me stessa che non avevo raggiunto neanche grazie alla eh alla psicologia stessa quindi questo diciamo è quello che mi ha fatto comprendere che nell'integrazione di questi di questi saperi si può eh raggiungere veramente una comprensione più elevata un sapere più elevato una visione delle cose veramente differente ecco questo è stato un po' il mio percorso. Ecco guarda ti dirò una cosa eh quello che io ho molto apprezzato del tuo approccio è che tu veramente le integri a me dà un po' fastidio eh pur nel rispetto ovviamente del lavoro di tutti quando l'astrologia diventa la stampella della psicologia. Ecco questo non mi piace perché credo che siano due discipline entrambe ricchissime eh ma non ci sia una sorta di scaletta no? di valore eh lavorano benissimo insieme lavorano benissimo anche da sole apportano tante verità tanti stimoli eh quindi secondo me ecco è è bella la tua visione perché dice prendiamo tutto il sapere facciamo un mix no? Di spunti interpretativi e con questo riusciamo ad aiutare la persona eh ho visto bene che tu non hai una sorta di scaletta di valore di preferenza. Soprattutto io sono dell'idea che ognuno deve fare il suo. Quindi diciamo eh nel momento in cui io ho un fronte a me a un consultante che si rivolge a me in qualità di astrologa io non faccio la psicologa. Utilizzo un sapere diciamo così eh anche esperienziale che mi consente di poter andare a ehm in profondità per l'interpretazione di quel tema. Però io spesso e volentieri quando le persone portano delle problematiche complesse eh suggerisco poi di fare un percorso in alcuni casi magari è un percorso con me di counseling astrologico che di diversi incontri ma spesso anche di fare un percorso invece di tipo psicoterapico, psicologico e con soddisfazione le persone lo fanno. Quindi vuol dire che magari nell'ambito del consulto sia si smuove qualcosa arriva una consapevolezza diciamo che poi aiuta la persona a proseguire nel migliore dei modi no? Ecco questo è quello è molto interessante. Ci vuoi raccontare per esempio un 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 evento di con un tuo cliente che ti ha impressionata che ricordi con piacere per far capire anche quanti risultati si possono ottenere eh con una conoscenza. Io racconto una cosa molto recente sono sicura che se la persona ascolterà si riconoscerà ma gli altri non la possono riconoscere allora una donna che diciamo ha un trascorso abbastanza complesso per quanto riguarda la sua dimensione relazionale in particolare con quest'uomo eh da cui ha avuto un figlio che eh ovviamente adesso non entro nel dettaglio insomma ma era abbastanza evidente che a distanza di anni ci fosse ancora molto risentimento molta credine ma soprattutto un malessere di questa signora insomma. Dopo la lettura del tema eh un paio di incontri perché stiamo facendo appunto un percorso affrontando veramente io non ho guardato nel non ho fatto la sinastria eh non ho guardato il tema specifico specificamente di lui però un pochino diciamo gli ho dato un' occhiata e grazie a un ragionamento sul meccanismo della proiezione appunto hm e su quanto noi come dire eh possiamo sentirci feriti che non vuol dire che siamo stati feriti eh e quindi comunque attraverso il meccanismo della proiezione eccetera il suo riscontro adesso la sto facendo un po' breve il suo riscontro è stato che ehm casualmente proprio in quei giorni aveva risentito quest'uomo e lei ha detto è per la prima volta l'ho guardato attraverso occhi diversi e nei suoi confronti ho provato tenerezza. Bellissimo. Questo secondo me al di là del come dire io penso che l'astrologia debba lavorare proprio per la pace eh io ho un'idea di astrologia per la pace quindi miglioramento dei rapporti in generale eccetera ma al di là del bene che può essere arrivato a quest'uomo è importante ovviamente quello che è è successo in lei no? Certo. Possibilità di fare una rilettura perché io ci tengo a dire una cosa amata. Eh se uno mi dovesse chiedere ma cos'è secondo te no? Eh qual è il fondamento su cui tu lavori. Allora io sono assolutamente convinta che l'astrologia non descriva qualcosa di statico, di immutabile o che cambia un pochettino. L'astrologia è veramente qualcosa che ti dà l'opportunità di comprendere che tipo di percorso evolutivo di cambiamento tu puoi fare. E in questo appunto è assimilabile alla psicologia no? Questo io lo dico perché nella mia esperienza lavorativa come tu sai avendo lavorato in psichiatria ho visto capitare delle cose che sembravano impossibili. Quando soprattutto la psichiatria è un ambito dove ancora adesso si tende a mettere etichette no? Quindi se uno è così è così no? Cioè devi stare alla larga quasi perché è così e invece io ho visto fare dei percorsi straordinari. Quindi vuol dire che noi possiamo veramente operare un cambiamento, un'evoluzione grazie a che cosa? Alla consapevolezza ma anche al nostro impegno eh perché c'è anche questo discorso da dire cioè c'è anche uno deve anche scegliere di voler intraprendere no? Un percorso ecco quindi per me in questo in questi termini insomma io vedo appunto questa equiparazione tra questi due saperi. Ma assolutamente guarda anche diciamo nel senso proprio più prettamente astrologico i pianeti si polarizzano cioè man mano che subiscono transiti cambiano in parte il loro modo di esprimersi che è quello che poi nella vita di tutti i giorni chiameremo saggezza no? Facciamo esperienze e accumuliamo opinioni, informazioni, eh sensazioni che ci aiutano a prendere il meglio dalla vita, a capire come siamo fatti, qual è il nostro tetto di cristallo, ma anche quale è il settore della vita in cui possiamo ottenere di più e perché, con che mezzi. Cioè sicuramente il tema natale è certo una base, io spesso scherzando dico che chi nasce rotondo non muore quadrato. Però c'è da dire una cosa, eh la psicologia ha dimostrato che noi non cambiamo il nostro carattere, però cambiamo i nostri comportamenti. L'astrologia ci dice la stessa cosa, cioè è chiaro che la nostra profonda natura rimarrà quella per sempre, eh una sorta di come dire DNA caratteriale che ci portiamo dietro sommato all'educazione ricevuta, alle esperienze che andiamo facendo. Eh però sicuramente abbiamo chiamiamolo anche un libero arbitrio, comunque una possibilità di capire quali dei nostri comportamenti, delle nostre reazioni non ci fa del bene e farle evolvere verso un qualcosa di più maturo, di più consapevole, di più giusto per essere felici. Io faccio una piccola precisazione, già le esperienze diciamo del nostro contesto, dell'educazione, eccetera. Già il risultato di quello in realtà noi potremmo cambiare, perché noi quello che non possiamo cambiare anche appunto eh come dicevi tu, lo dice anche la psicologia, è ciò che è innato. Allora lì proprio non ci possiamo fare niente, però cosa possiamo fare? Possiamo conoscerlo e accettarlo. Come? È importantissimo anche, no? Cioè imparare come prima cosa non disconoscere la propria natura, perché un'altra cosa secondo me è importante, è che l'astrologia ti dice non siamo tutti livellabili, non è vero che dobbiamo essere tutti, che ne so, arrivati con la macchina grande, con due e la casa del mulino bianco, non è così, non siamo livellabili, abbiamo bisogni diversi. Quindi quando noi guardiamo il nostro eh la nostra diciamo così il nostro temperamento appunto ciò che è innato, lì possiamo fare una prima grande cosa o per far operare l'accettazione. Poi tutto quello che viene dopo nell'incontro con l'esterno, la famiglia, l'educazione, a seconda del luogo in cui viviamo, eccetera, lì succede qualcosa. Su questo qualcosa che poi dà origine ai nostri schemi, i nostri comportamenti, vi possiamo intervenire? Ecco. Assolutamente sì. Eh possiamo intervenire, dobbiamo intervenire per vivere meglio, per cogliere le le occasioni, no? Eh e ti dirò, ti dirò una cosa. Eh è un discorso prettamente astrologico, so che tu mi seguirai perfettamente, lo dico perché ci ascolta, poi tu mi dirai se sei d'accordo, no? Eh i quattro punti cardinali dell'oroscopo rappresentano un po' le quattro grandi domande della vita umana, no? Perché l'ascendente dice chi sei, il fondo cielo dice da dove vieni, il discendente dice con chi fai la strada e soprattutto il medio cielo che è il più importante dice dove vai. Ora questi quattro punti non sono in aspetto armonico fra loro. Questo vuol dire che per arrivare al medio cielo che è il punto più alto, la cima del nostro tema natale, noi dobbiamo lottare contro noi stessi, contro la famiglia da cui proveniamo, l'ambiente, la patria, la società, insomma la cultura della nostra epoca, contro le persone che ci sono vicine, perché sono delle realtà che non è detto assolutamente che collaborino, anzi l'astrologia mettendole in cattivo aspetto astrologico fra di loro, sono tutti opposti e quadrati, ci testimonia che è proprio quello l'ambito su cui noi possiamo intervenire e lavorare. Imparare ad amalgamare eh le origini, le persone che scegliamo, la nostra profonda natura eh limare le differenze, spezzare le catene quando eh necessario per arrivare al medio campo che poi tanta gente eh lo lo classifica come il punto della carriera e in questo ti do ragione che spesso no siamo un po' vittime di questo modello, tutti dobbiamo avere il lavoro, il successo, il macchinone, ma non è vero perché il medio campo è la nostra realizzazione personale, è il nostro progetto di vita, cioè quello che noi possiamo e dobbiamo esprimere nel corso di questa vita. Cioè ridurlo alla casa della promozione è veramente un'opera secondo me di mistificazione culturale perché la tua realizzazione può essere anche diventare un grandissimo collezionista di biglietti del cinema usati. Cioè se a te quella cosa ti fa felice ecco lì c'è la tua realizzazione. Chi sei? Cosa vuoi essere? Sì. Mi viene solo da aggiungere che tu hai detto sono in cattivo aspetto no? Allora diciamo che sono potenzialmente in conflitto. Potenzialmente. Non necessariamente però è vero diciamo il fatto che siano potenzialmente in conflitto vuol dire che tra i due deve accadere un'integrazione. Per forza. Come anche la casa uno e la casa sette, io e gli altri no? Sono tutti potenzialmente diciamo in opposizione. Quindi forse più che lottare a me viene da dire che dobbiamo comunque certamente eh lavorare ma per esempio noi per diventare adulti abbiamo bisogno di fare un percorso che eh un po' delude chi ci ha messo al mondo no? Cioè nel senso noi dobbiamo diventare noi altro da chi ci ha generato eccetera no? Possiamo ovviamente con più o meno facilità con più o meno in armonia poi il tema questo lo dirà no? Però è vero diciamo il nostro compito teoricamente eh dovrebbe essere quello appunto di individuarci cioè diventare delle persone adulte con un loro progetto insomma no? Eh sì e qui interviene quello di cui tu parlavi prima no? L'accettazione perché se astrologicamente parlando l'ascendente e il fondo cielo sono quadrati quindi non armonici no? Sono in una sorta di appunto di istonia eh e questo per tutti gli esseri umani alla struttura stessa dello zodiaco questo significa che noi dobbiamo imparare ad essere noi stessi a volerci bene ad accettare anche che le fondamenta della nostra vita debbano essere superate che non vuol dire con odio o con rancore o con rabbia ma semplicemente prenderlo per ciò che è dargli il suo colore la giusta posizione nell'interno di nostra della nostra scala di valori e comunque pur interiettando certe certi spunti superarli per andare verso quello che noi siamo e non la nostra famiglia adesso faccio questo esempio ma vale per tutti gli altri aspetti come tu dici l'accettazione di ok sì la mia famiglia è fatta così e il mio passato è stato questo il mio cammino finora è stato su questa direzione non lo rinnego fa parte di me vorrà sempre bene a a quella parte di me che ha vissuto quel certo tipo di stimolo però adesso è venuto il momento che io apro un'altra porta no ecco questa accettazione serena e non eh ecco piena di accredino comunque di astio come dicevamo prima secondo me è fondamentale perché finché ti parti l'astio dietro diventa anche una zavora per l'anima certo e d'altra parte un certo tipo di astrologia ti dice questo no cioè se tu vivi delle esperienze io non voglio esagerare questo discorso eh non non credo fino in fondo che tutte le disgrazie eh le più terribili dobbiamo affrontarle dicendo grazie che così sono cresciuta non credo questo no ecco sì poi ne parliamo anche meglio di questo lo preciso hm alcune cose se uno potesse evitarsele magari sarebbe più contento ok però noi non possiamo evitarle a volte ok quindi quello che penso è che comunque noi dovremmo provare almeno a pensare che se una cosa ci è capitata quella cosa in qualche modo ci è servita qualche modo in qualche e quella cosa in qualche modo ci ha dato una spinta cioè eh ci ha dato un'opportunità anche se magari avremmo preferito non averla non so come dire eh quindi questo per me no è l'accettazione cioè stare in una dimensione in cui dici io poter posso cambiarla no e se non posso devo solo accettarla perché nel momento in cui l'accetto allora la vedo anche con altri occhi no che poi banalmente è quello che noi dovremmo fare tutti i giorni nella vita no che se voglio andare in spiaggia ma piove è inutile che mi incazzi no? Cioè posso farci niente mi leggo un libro no? Ecco questa pratica nella vita di tutti i giorni aiuterebbe tantissimo no? Assolutamente in termini più importanti diciamo anche rispetto alle nostre configurazioni del tema no? Ci sono delle cose che io di cui devo prendere atto e che eh se accetto allora probabilmente riesco a viverla in una maniera differente certo beh poi sai quando l'hai accettato l'hai anche elaborato metabolizzato e sei pronto in qualche modo per archiviare la pratica e andare oltre quindi è importantissimo guarda su questa cosa eh del dolore che fa crescere io spesso ci sono venuto a discutere in modo abbastanza acceso con alcuni colleghi allora che eh le esperienze di vita ma tutte anche quelle belle fanno crescere no? Perché detta così sembra che solamente le le esperienze negative siano apportatori di saggezza il che non è vero perché anche non so diventare genitore piuttosto che lavorarsi o avere una promozione sono esperienze che ci danno sensazioni emozioni voglia di fare nuovi obiettivi e quindi anche da quello traiamo consapevolezza e saggezza quindi tutto quello che ci capita a far di noi ciò che siamo ma sicuramente eh ti dirò che anzi ho visto molte persone che anziché elevarsi come dicono col dolore si sono abbrutite ecco perché a volte il dolore è tale che non riesci a metabolizzarlo per questo credo che quello quel lavoro sull'accettazione di cui tu parlavi sia fondamentale perché ci sono degli eventi che non ci fanno crescere non ci rendono più intelligenti e più saggi sono solo delle incredibili batoste da cui è molto difficile riprendersi o comunque venirci a patti e insegnare l'accettazione eh di quello che è un po' ineluttabile che fa parte insomma della vita umana sia assolutamente una grande arma per restituire un po' di serenità alle persone sì 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 no è vero sono persone che non riescono appunto a trasformare diciamo un'esperienza dolorosa o difficile in uno stimolo anche no o anche semplicemente appunto accettarla certamente lì però bisognerebbe fare in modo che quella persona potesse lavorare su questo no perché poi noi siamo anche in un periodo secondo me particolare eh io adesso sto preparando uno scritto su Saturno perché sostengo che a dispetto di quello che si pensi c'è poco Saturno in giro non ce n'è troppo sono perfettamente d'accordo vogliamo spiegare meglio a chi ci ascolta questa tua idea no nel senso che vabbè io sono del capricorno quindi forse sono in sintonia con questo archetipo eh quindi forse ho anche un po' una visione di parte però non credo cioè una non è solo questo è il fatto che come tutti mi guardo intorno faccio le mie letture e credo che questo come dire se Saturno lo guardiamo nella sua complessità perché Saturno non è solo questo che si dice in maniera banale no mi toglie mi sottrae i rami secchi non è quello Saturno è anche la nostra capacità di essere adulti la nostra capacità di stare in piedi sulle nostre gambe Saturno simboleggia la spina dorsale e questo la dice lunga no quindi è anche la nostra morale la nostra etica quindi un Saturno ben funzionante nel tema non boicotta mai un Saturno che funziona anzi rende le persone più forti più assertive ma non eh fredde e bige sono assolutamente d'accordo mi permetto di aggiungere che è Saturno il grande costruttore senza Saturno i suoi transiti i suoi aspetti nel nostro tema natale noi non saremmo in grado di edificare neanche eh che ti posso dire un lavatoio cioè altro che palazzi sempre in senso metaforico no certo certo eh io spesso a lezioni dico che Saturno è è come ehm la terza casa del terzo porcellino quella costruita in pieta che il il soffio del lupo non butta giù eh ma è vero un po' è vero no e allora appunto rimanendo in ambito così diciamo astrologico per esempio vabbè tu lo sai no che tu facciamo parte di gruppi Facebook eh quel mondo un po' particolare io stesso ho un gruppo no però dove insomma bisogna un po' capire no chi arriva cosa vuole cosa posta ehm ci sono delle volte in particolare diciamo così recentemente mi sembra di notare questa cosa no che non c'è questo mettere in conto che devi fare anche un po' di fatica no? Eh questo sì. Succede questo elenco di disastri cose dove lo vedi nel tema Natale ma non è questa la domanda eh scusa e quando ti ho detto lo vedo qui e qui sei contento? Impossibile no? La domanda non deve essere quella no? Che ruolo ho io? Eh cosa vedi nel tema? Cioè io che parte ci metto? Cosa posso fare per ecco in questo senso? Eh guarda questo è molto complesso perché adesso ti 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 dico la mia impressione no? Eh sono ovviamente eh sempre disponibile con le donne quando facciamo i consulti anche se eh all'origine magari si voleva vedere una traiettoria lavorativa comunque sull'amore se ne parla sempre perché noi donne insomma eh per per i battiti del cuore abbiamo sempre un interesse un'attenzione no? Io sono le donne comunque però è vero eh sì eh alla fine anche se ti ho chiamato per sapere insomma qual è il mio miglior talento piuttosto che l'energia della mia vita poi la domandina su ma come mi va la vita affettiva alla donna te la fa ed è anche giusto su su questo eh insomma voglio dire nel momento in cui ti guardi un po' dentro rifletti anche su sull'amore eh su ciò che ti lega alle persone ora chiaramente uno dei motivi principali per cui a volte ricori all'astrologo è sapere se il destino prevede per te un incontro no? La possibilità di quella che io chiamo la carezza della sera cioè tutti abbiamo bisogno di una carezza di un sorriso di una persona che eh ci incoraggia e ci dà il buongiorno perché l'affetto è sempre importante nella vita anche delle persone più realizzate eh su altri canali e eh a volte mi fanno delle domande come se l'arrivo della persona giusta nella loro esistenza fosse veramente un giovane un saturno capito che te lo mandano ti suona la porta di casa tu apri e da quel momento vi starò sempre felici e contenti cioè gli manca spesso alle persone la eh la consapevolezza che l'universo può anche allinearsi ma senza le azioni della persona non si va da nessuna parte certo certo cioè infatti io chiedo sempre dico sì ma perdonami ma tu ti ti stai curando ti fai carina stai cercando di fare nuove amicizie di inserirti nuovi ambienti no io faccio casa lavoro in tuta esatto è questo no allora vuol dire che manca la consapevolezza che comunque eh ci deve essere la appunto come dicevi tu la tua azione no il tuo c'è un ruolo hai un ruolo tu nel determinare le cose assolutamente ruolo nel determinare le cose che non vuol dire come alcuni pensano quando si parla di astrologia umanistica che allora gli astrologi umanistici pensano che tutto dipende da te che il destino è solo nelle tue mani perché anche questo è un modo sbagliato di intendere questo approccio all'astrologia no nessuno cioè voglio dire bisognerebbe essere fuori dal mondo per sostenere che tutto è nelle tue mani però buona parte buona parte sì perché lo vediamo che magari a parità di esperienza una persona di quell'esperienza ne fa una cosa e un'altra ne fa un'altra no quindi vuol dire che lì ha determinato cosa il libero arbitrio la tua capacità di la tua consapevolezza che è quello che succede nei transiti no non è che i transiti non funzionano per tutti alla stessa maniera perché perché arrivano su una situazione differente anche non solo una configurazione astrale differente ma anche su un livello di adultità e consapevolezza che è differente sono sono d'accordo infatti io porto spesso questo esempio gli dico ma pensa un attimo alle suore le suore vivono i passaggi di giove di venere di plutone esattamente come tutti gli altri esseri umani quindi se fossero solo le stelle non avremmo più una suora che non si sia innamorata abbia avuto figli eh passioni erotiche sorprendenti no e non succede perché alle suore non succede anche se sono esseri umani come tutti perché loro questa cosa non la cercano non fanno un tipo di vita in cui questo genere di cose possa arrivare per questo loro probabilmente quei passaggi li sublimano su altri canali no su altri contenuti sarà lo stesso per te se fai una vita da sua ora avrai un destino da sua ora anche se tutti i pianeti si allineano sulla tua venere e suonano la cassa mi sembra che tu stia dicendo una banalità e invece a volte lo devi spiegare lo devi spiegare sì sì ma proprio con anche un po di pazienza no forse anche perché a noi donne ci sono state lette queste segrabili favole no di fanciulle addormentate che arriva il principe le bacio e le risveglia forse perché appunto bisognerebbe recuperare diciamo così una visione dell'astrologia come eh di una disciplina che ha un come dire nella sua serietà non è magia no quindi come dire non è un po questo il discorso no cioè come appunto che è la stessa cosa di quando si va dallo psicologo appunto cioè chi ha un certo livello dice ho bisogno di fare un percorso e poi c'è chi invece va non si capisce perché è forse spinto da qualcun altro dire ah ma perché dobbiamo vederci un'altra volta è uguale no fa la stessa cosa cioè se non hai consapevolezza di te non hai neanche consapevolezza di come si usa lo strumento ecco questo è assolutamente vero poi dirò che siamo anche purtroppo in termini proprio di tempi che in cui viviamo ci siamo troppo abituati a quello che io chiamo la fantasia delle app cioè vai dal medico ti dà la pasticca cerchi un'informazione di colleghi all'app hai tutto e subito eh c'è una distonia nel modo in cui noi uomini del terzo millennio gestiamo il fattore tempo perché il lavoro ce ne toglie sempre di più e spesso non ci dà in cambio quello che noi ci mettiamo dentro come energia tempo per noi no è completamente sparito l'ozio creativo dei latini nessuno ha più tempo di stare seduto a fantasticare meditare liberare la mente è molto raro no e e il fatto che non ci siano più i tempi interiori ma solo i tempi esteriori sta falsando la nostra percezione delle cose per cui vai dallo psicologo dall'astrologo e pensi che in cinque minuti ti dà l'equivalente della pasticchetta ma non è così questi sono percorsi che si fanno in due possono essere lunghi possono essere fatti un po' ad onda sinusoidale no quindi ecco diciamolo a chi ci ascolta se avete piacere di fare un lavoro su voi stessi considerate che ci vuole il tempo anche per dare all'anima il modo di di recepire ciò che è stato fatto perché l'anima non ha un pulsante può anche succedere può succedere che in una lettura fatta bene eh con una persona che già ha voglia di comprendere arrivino degli insight che può succedere non è che bisogna fare trecento sedute per no però come dire intanto ci deve essere una tua predisposizione ma poi come dire l'insight è una cosa che poi appunto compre significa lo stesso che tu devi elaborare qualcosa no devi fare un lavoro e questo no perché tu prima dicevi tutto è subito il problema è che si dimentica la qualità di quel tutto che arriva certo per cui sì io posso cerco una cosa vado su internet google a tutte le risposte ma che risposte no cioè oltre al fatto che magari chi la cerca quella domanda cerca quella risposta non la legge neanche tutta perché la storia di attenzione rispetto alla lettura è di trenta secondi no quindi già l'informazione è quella che è peraltro tutte le leggi saltando dieci righe è un po' questo no che è uno dei mali diciamo del nostro tempo assolutamente e invece ecco l'astrologia per esempio secondo me insegna tanto nel senso di tempo perché poi alla fine l'astrologia è un enorme calendario del della vita dell'uomo sulla terra no il sosseguirsi delle stagioni dell'età della della vita del dell'uomo le sue esperienze e soprattutto ci insegna che tutto è ciclico no inizia si sviluppa finisce poi comincia così come eterna è l'energia vitale ehm alterare questa situazione questa sensazione secondo me può portare soltanto a non vivere bene quindi eh ben venga che ci siano persone come te che fanno questo tipo di percorsi con le persone io come sai mi occupo essenzialmente di astrologia previsionale eh ma noto che comunque le persone lavorando sul loro futuro se sono evolute lavorano sempre anche su se stesse quindi immagino a maggior ragione quanto possa essere ricco il percorso che fanno con te che comunque hai anche la sapienza psicologica dall'altra parte che ti permette magari di cogliere dei nisti che un astrologo non coglie ovviamente bene senti ti volevo chiedere una cosa eh cosa diresti a dei giovani che volessero eh approcciarsi all'idea di lavorare nel tuo campo che devono diciamo che il percorso è lungo che c'è tanto da studiare che non si finisce mai però che sicuramente in prima battuta sarebbe per loro un arricchimento cioè ci sono come dire del dei lavori che tu intanto ti arricchisci tu prima di no ehm e quindi non lo so che devono avere perseveranza che non devono come dire approcciare questa cosa appunto immaginando che sia tutto semplice però che sicuramente sarebbe un percorso arricchente ecco eh sì assolutamente sì senti qualche progetto in cantiere così poi salutiamo i nostri amici allora eh brevissimo adesso per la settimana di ferragosto faccio un residenziale qui eh di una settimana eh l'argomento è Urano e Plutone e scusami eh Saturno e Urano per rimanere diciamo responsabili ma flessibili ecco visto molto bello il momento diciamo così di cambiamento e poi io a settembre faccio partire i miei corsi base avanzato quelli li faccio diciamo ciclicamente e qualche seminario ancora un po' da mettere a fuoco fuoco esatto allora io ci tengo a dire che Gabriella Marangelli ovviamente la potete trovare facilmente su internet la potete contattare per i suoi corsi per i suoi consulti per tutto quello anche queste belle cose residenziali purtroppo quando questa intervista andrà in onda l'esperienza di ferragosto sarà terminata ma ne farà sicuramente altre eh in altri momenti quindi seguitela eh se vi piace questo approccio se vi interessa eh la capacità di utilizzare astrologia e psicologia per aiutare le persone a vivere meglio Gabriella da questo punto di vista è senz'altro un grosso punto di riferimento credo che i suoi corsi siano bellissimi non ho avuto il piacere di seguirli del resto nella vita non si può fare tutto anche questa è una cosa da accettare vero Gabriella bisogna assegnarsi al fatto che il tempo è quello io mi auguro che anche quest'anno avrà tempo da dedicare alla nostra accademia a venire a fare qualcosa di bello anche per noi la ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi spero che anche tu sia stata bene a fare questa chiacchierata assolutamente tra l'altro l'avevamo già rimandata una volta perché io ho avuto dei problemi per cui invece sono proprio contenta che siamo riusciti hai visto eh agosto è stato utile nella quale siamo riusciti ad incrociarci bene Gabriella noi ci sentiamo presto ti mando un bacione saluto anche tutti che ci hanno ascoltato ciao grazie ciao 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 ciao